Vedi, 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 vedi caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare e se quest'anno poi passasse in un istante vedi amico mio come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io l'anno che sta arrivando tra un anno passerà io mi sto preparando è questa la novità